All'inizio si doveva chiamare la vera cura, perché questo allora brevemente nasce dall'esperienza del Bocciarelli Home Theater. Durante il lockdown, dal 10 marzo, io ho trasmesso da casa teatro, poesia e pittura, perché ho realizzato dei quadri anche in diretta, e a mano a mano questa avventura virtuale ha preso piede e una casa editrice mi ha chiesto di raccontare questa avventura del Bocciarelli Home Theater, cioè come sopravvivere ad una pandemia attraverso la bellezza dell'arte, la poesia, il teatro. E durante questi 65 giorni, che racconto nei 12 capitoli, e poi c'è anche il contributo del pubblico, perché sono state selezionate una ventina di lettere, poesie, scritti, che il pubblico ha voluto condividere con me e con tutti noi, ho raccontato passo dopo passo, nella mia solitudine, nella mia casa romana, anche il rafforzarsi del mio rapporto con Gesù, che è diventato proprio il mio miglior amico in quelle ore di silenzio, di paura, di smarrimento, ma anche di vita, perché attraverso il teatro e la poesia e il contatto, seppur virtuale, con il pubblico, mi sono sentito meno solo e ci siamo un po' sentiti tutti meno soli con questa avventura del Bocciarelli Home Theater. E questo è raccontato. Bene, grazie. Marco?